100 giorni di amministrazione e opera molla. Siamo nel comune di Serre in compagnia del sindaco. Sindaco facciamo un bilancio di questi primi 100 giorni di mandato. In questi primi 100 giorni di mandato sembra che sia passato un'eternità, ma 100 giorni per un'amministrazione pubblica sono davvero pochi. Siamo davvero molto soddisfatti dell'operato svolto finora perché oltre alle opere fatte, tantissime opere fatte, abbiamo instaurato un rapporto davvero importante con l'intera comunità, dove c'è un dialogo continuo e quotidiano a partire dalle piccole segnalazioni fino ad arrivare a cose più importanti. Questo è il nostro intendo, di continuare a dare servizi, a dare tutto quello che questa comunità ha bisogno per ritornare a splendere di luce propria. Sindaco, i punti del suo programma amministrativo su cui lavorerà e su cui ha già lavorato sono veramente tanti, ma quali saranno i prossimi a cui darà applicazione? Sì, Alessandro ha detto bene. Abbiamo già fatto tanto per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e anche la straordinaria amministrazione. Il punto focale di questo ente è il terreno dell'ex campo da golf. Su quel campo abbiamo fin da subito messo in campo tutte le nostre energie e da qui a qualche settimana avremo già i primi risultati, i primi risponsi, perché abbiamo dato mandato a una società che si occupa di energia per mettere in produzione la metà dei terreni, quindi 60 ettari sui 120 per l'agrovoltaico. Quell'investimento ci consentirebbe, con un contratto di fitto trentennale, ci consentirebbe di rientrare dai 158 mila euro di rata muto che questo comune paga ogni anno non raccogliendo frutti da dieci anni e quindi l'altra parte poterli investire nell'ordinaria amministrazione senza trascurare che sugli altri 60 ettari abbiamo già messo in cantiere uno studio per far diventare meta turistica Borgo San Lazaro, quindi Persano, con un parco di attrazione turistica che diventerebbe di livello internazionale. Come immagina Serre tra cinque anni, cioè alla fine del suo primo mandato da sindaco? Beh, io immagino una comunità serena, innanzitutto tranquilla, che abbia voglia di vivere perché negli ultimi tempi, dovuto tanto anche alla pandemia degli ultimi anni, ho trovato una comunità abbastanza spenta. Oggi devo dire che sarà, ripeto, la fine di questa situazione drammatica che ha comportato non solo Serre ma l'intera nazione, il mondo intero, a ritrovarsi, diciamo, impelagati in situazioni che prima nessuno poteva immaginare. L'augurio è che questa comunità torni, come dicevo prima, a sorridere e a splendere di luce proprio perché ha tutto per fare bene, ha tutto per poter primeggiare e ha tutto per guardare al futuro con ottimismo. Una comunità che già quest'estate ha ripreso a vivere gli eventi di punta, ce ne saranno altri anche nei periodi invernali? Assolutamente, sì, noi abbiamo avuto durante la stagione estiva migliaia di presenze dovute al Festival Jazz ormai diventato internazionale. Abbiamo, a proposito, abbiamo voluto fortemente il cambio della direzione artistica che l'abbiamo affidato al maestro Walter Ricci con il quale già siamo al lavoro per il prossimo anno. Abbiamo avuto concerti di artisti importanti, quale Franco Ricciardi, De Martino e diciamo che tutta la gremessa estiva non abbiamo trascurato nessuna fascia d'età partendo dai bambini, dagli anziani, dai giovani che sono il cuore pulsante di questa nostra comunità. Ovviamente non ci fermiamo qui, anche nel mese di settembre abbiamo avuto altre manifestazioni e annuncio già che il 9, il 10 e l'11 dicembre di questo anno avremo la festa dell'olio che fortunatamente riprenderà dopo i due anni di inattività dovuti alla pandemia. L'amministrazione Opramulla si sta caratterizzando per un rapporto diretto con i cittadini, lei è sempre presente, chi viene in comune può trovarla e interagire direttamente con lei? Sì, questa è una nostra, una mia, una nostra ma di tutta l'amministrazione, un grosso pregio perché dal primo giorno, dalla prima ora abbiamo voluto fortemente la nostra presenza qui all'interno della casa comunale e anche sulla zona di Borgo San Lazzaro, sulla frazione di Borgo San Lazzaro a Persano ho aperto da circa 20 giorni uno sportello, un punto ascolto dove il sindaco in prima persona con gli amministratori incontrano i cittadini per qualsiasi necessità, per qualsiasi segnalazione o eventualmente suggerimento. Quindi questo comporta un filo diretto tra le istituzioni e il cittadino e oggi qualsiasi amministrazione pubblica deve avere bisogno, deve avvalersi della fattiva collaborazione del popolo del quale io mi onoro davvero di rappresentare in ogni dove perché questa è una comunità che merita tanto e che insieme raggiungeremo mete davvero importanti.